Francesco è un nostro allievo della Jazz Drama Academy, un bartierista giovane, molto bravo, che suona rock, pop e da quando è con noi ha voluto buttarsi in questo nuovo linguaggio jazzistico. Sta suonando molto bene anche jazz. Ora gli sta capitando un'esperienza molto interessante con un trio di giovani musicisti che suonano jazz originale, con brani originali del band leader, un melting pot stilistico nel quale i musicisti sanno suonare bene jazz, ma suonano anche un po' di rock, un po' di prog, c'è qualche inflessione etnica, araba, insomma, la musica del mondo. Il jazz non più come essenza originaria swing, ma un qualcosa che nel frattempo si è tramutata in un linguaggio musicale più ampio. Qui potremmo aprire la parentesi del fatto che, ahimè, in un certo senso, nelle nuove generazioni ci sia sempre meno l'elemento jazz di fondo. La second line, lo swing, quella pronuncia mainstream che arriva fino al bebop, che fa sì che il jazz sia quella roba là. Diciamo che aspetta anche a noi divulgare e insegnare il jazz tradizionale alle nuove generazioni affinché non si dimentichino che il jazz nasce con Rect Time di fine 800 e non con John Coltrane nel 1961, però questi sono argomenti già trattati che probabilmente tratterò e rinnoverò ancora in questa rubrica. Chiusa parentesi, in questo trio, dicevo, ci sono dei brani molto interessanti, nei quali, nello specifico, Francesco, il batterista, noi batteristi dobbiamo conoscere bebop, ma dobbiamo conoscere anche quale groove e quale disciplina pop e rock può essere integrata allo swing jazzistico, qualche metrica dispari e un qualcosa che sia un po' di tutto, soprattutto perché ci sono molti brani even 8, quindi non particolarmente shuffle, ma quell'even 8 che non è una bossa nova, non è un brano pop, non è un brano latin, non è niente, ma in realtà è tutto di queste cose qua. La difficoltà di Francesco è che in questo brano c'è un punto nella partitura, brani tutti scritti dall'inizio alla fine, le parti tematiche, gli obbligati, eccetera, eccetera, c'è un punto in cui da quattro quarti diventa nove ottavi, poi dodici ottavi e poi torna a essere quattro quarti. Ebbene, Francesco quando ha provato la partitura, ha provato a casa il pezzo, dal punto di vista formale era tutto perfetto. Poi, alla prova che ha fatto live con gli altri due musicisti, quel punto lì del brano non veniva fuori niente, si scollavano tutti. L'argomento del video è proprio questo, la preparazione tecnica, la preparazione strumentale, la capacità di lettura, la teoria solfeggio, le metriche, mettere a posto tutto, è fondamentale per essere pronti strutturalmente ad affrontare un impegno musicale. Ma, attenzione, perché talvolta la partitura o una parte, una porzione di quella partitura, dobbiamo prenderla, chiuderla e aprire le orecchie e interpretarla con gli altri musicisti. Nel caso specifico, questa parte di brano che da quattro quarti diventava nove ottavi, dodici ottavi, non era più così rigorosa come scritta in partitura, ma il tempo doveva fluttuare assecondando la melodia tematica e assecondando l'un l'altro i musicisti del trio. Ricordo un aneddoto di un'esperienza bellissima come docente in una serie di masterclass in un'accademia di musicisti, di percussionisti classici, tutti i ragazzi preparatissimi che mi facevano un culo così dal punto di vista meccanico e tecnico, strumentale. Però hanno dovuto rimboccarsi le maniche, come dovremmo fare tutti, se siamo ospiti in un ambito che non è il nostro, per interpretare un qualcosa di jazzistico, nel quale la preparazione alla lettura della partitura serviva al 20%, l'80% invece era interpretare ciò che era scritto nella partitura. In conclusione, non mettetevi il paraocchi e il tappi nelle orecchie pensando che voi comunque state leggendo benissimo la vostra parte perché ve la siete studiata a tavolino e non sbagliate un colpo, perché un conto è suonarla da soli, un conto è poi sposare l'idea comune dell'interpretazione di quel brano e quindi assecondare delle fluttuazioni, dei dettagli che cambiano rispetto a ciò che è scritto. Orecchie radar sempre aperti.